Sono preoccupatissimo, stanno in mezzo a noi, state attenti, gli incoerenti. Oh, sono quelli che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Un'amica mia è così, lei diceva bianco e poi faceva nero. Infatti c'è il marito che è bianco, ma il figlio che è decolore. Ma perché noi viviamo in un mondo di incoerenti, ma non solo nei comportamenti, anche nei mestieri, allora rispondete, un dietologo per essere coerente come deve essere? Se così è così, deve essere fassino, deve stare così. Io sono andato al dietologo, mi ha aperto la porta, uno c'è il fisico di Giuliano Ferrara. Non gli ho detto neanche buongiorno, gli ho detto ciccione. Dice sì, ma poi capisci, ma che capisco, sei ciccione. Sì, ma dai, poi capisci, ma no, io non mi fido di un dietologo ciccione. Ma poi capisci, allora fammi capire, quanto te la fai pagare una dieta? 500 euro a settimana. Ammazza, 500 euro? Ci vai a cena fuori tutte le sere. Eh, mo hai capito perché sono ciccione? Eh, il macellaio, il macellaio coerente com'è? Grosso, sporco di sangue, rozzo. Non vi fidate dell'insegna la boutique della carne. Io ci voglio scritto il silenzio di innocenti. Questo è un macellaio coerente. Sotto a casa mia il macellaio è una donna, bionda, dolcissima. Io la chiamo la principessa sul vitello. Ti dico solo l'insegna. Braciola fashion. Entri dentro sulla carne, ci stanno le etichette. Pare una profumeria. Faggiani jeans, dolce gallina, agnel numero 5. Il coniglio mi ha guardato e mi ha detto portami via, voglio morire la cacciatore, portami via. Questa è matta. Ma perché ci senti? Passi che vende i petti di pollo col senno rifatto. Passi che vende la coscia del pollo che ha l'isposizione. Ma quando allo zampone gli ho visto lo smalto, oh, io non ce l'ho fatta più. La coerenza. La coerenza. Il parrucchiere Tyson non può essere coerente che mentre ti fai i capelli ti strappano orecchio. Come deve essere il parrucchiere coerente? Deve essere elegante, sinuoso. Deve avere anche un po' di atteggiamento. Tu lo vedi che non cammina nel negozio e lui sfila. Perché è coerente. Non usa le forbici ma soffre i tocchi dei suoi polpastrelli. Perché è coerente. Una smucinata alla testa e voilà! Il capolavoro è fatto. Perché è coerente. Amore, sono 300 euro. Scontinuo, prendi direttamente da dietro, eccolo. Tu gli dici, ma come 300 euro? 300 euro mi ha lasciato senza mutande. Io quello volevo. So coerente. Chiudo. Chiudo con una considerazione. Io credo che tutti nella vita siamo un po' incoerenti. Però c'è chi esagera. Io voglio dire, se hai lo stipendio fisso, l'autista, un attico di 600 metri quadrati che affaccia su piazza San Pietro e sei cardinale, non predicare l'onestà. Lo vuoi un consiglio? Fai il politico. Almeno sei coerente. Grazie. Grazie. Grazie.